Un risultato, quello del voto di domenica 26 maggio, che ridimensiona il peso del Movimento 5 Stelle, uscito malconcio soprattutto nelle regioni del nord. Un problema geografico, commenta il consigliere regionale portavoce del Movimento 5 Stelle per l'Abruzzo Pietro Smargiassi, per il quale in regione il movimento fondato da Grillo e i suoi rappresentanti hanno continuato a ricevere tanto consenso anche con questa tormentata tornata elettorale. Segno che parlamentari e consiglieri stanno lavorando bene. Ma non basta e il Movimento, anche in Abruzzo, ha cominciato una profonda fase di riflessione e di riorganizzazione per cercare di essere più presente a livello territoriale. In Abruzzo il risultato non è negativo, abbiamo una percentuale che comunque ci soddisfa e vuol dire che questa regione, questi consigli regionali e questi parlamentari stanno lavorando bene e vengono premiati ancora da questi cittadini. Il problema è il voto a livello nazionale. Nella parte nord di questo paese ormai i cittadini votano esclusivamente la Lega. Noi teniamo dal centro in giù, manteniamo ancora il 30% al sud dell'Italia. A livello regionale come intendete continuare, diciamo così, a essere presenti sul territorio, a conquistare i consensi? Esattamente ciò che diceva Luigi Di Maio, il vicepresidente Di Maio, l'altro giorno nella sua intervista. Dobbiamo radicarci di più sul territorio, tornare a un radicamento territoriale in ogni città, in ogni quartiere. Ciò che forse si è perso nel tempo è stato esattamente questo. I cittadini sono abituati ad avere dei referenti in ogni città. Noi eravamo convinti che bastassero dei portavoci all'interno del Regione e all'interno del Parlamento. Le persone hanno bisogno di parlarci a quattro occhi. Dobbiamo ricreare sicuramente quel tessuto che col tempo, quelle maglie che col tempo si sono allargate. Il gruppo del Movimento 5 Stelle in Regione come ha reagito? Vi incontrerete, afferrete una riunione, cercherete un po' di rimettere in sesto le vostre forze? Questa operazione era già partita circa 20 giorni fa, un mese fa, quando Di Maio aveva chiesto a tutti i gruppi territoriali di fare delle proposte per migliorare appunto il collegamento col territorio. Abbiamo recepito, abbiamo fatto già delle riunioni, le abbiamo già mandate al vicepresidente Di Maio e proveremo a far sì che qualcosa funzioni meglio. È inutile nasconderselo perché a me non piace essere ipocrita o nascondermi dietro un dito. Qualcosa non funziona, dobbiamo recuperarlo. Qual è stata, insomma, in fin dei conti, la vostra più grande delusione? È non vedere già Luca Ranieri, l'ex consigliere regionale, entrare nel Parlamento europeo. 28 mila preferenze perse, la Regione Abruzzo si ritrova senza un europarlamentare. Questo purtroppo è ciò che dicevo all'inizio dell'intervista, è l'effetto di un 17% a livello nazionale.